ciao lettori elettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video oggi noi di mamma style vogliamo proporti una ricetta davvero fantastica in poche mosse e in pochissimi minuti puoi preparare una squisita marmellata perfetta da gustare durante l'estate il suo gusto intenso è davvero qualcosa di straordinario e puoi usarla per farci dei guarnetti stammarla sulle fette biscottate e per farci biscotti o delle crostate vediamo insieme quali sono gli ingredienti e quali sono i passaggi lava per bene i limoni sotto un getto di acqua fredda poi asciugali con un panno o della carta assorbente da cucina taglia a fettine limoni e aiutandoti con un coltello elimina tutti i semi e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passate 24 ore scola per bene le fette di limone e ripeti lo stesso procedimento aggiungendo acqua e coprendo con della pellicola trasparente. Lascia di nuovo in posa per un giorno. Poi scola e versa le fette di limone e in una pentola capiente. Faccia di nuovo. Faccia di nuovo. Copri il limone con dell'acqua e cuoci fino ad ebollizione. Adesso metti da parte 350 ml di acqua di cottura. Scola tutto e poi metti i limoni nella pentola e aggiungi l'acqua messa da parte. Adesso unisci anche lo zucchero e cuoci tutto per un'ora mescolando di tanto in tanto. Spegni il fuoco, lascia intipidire e poi frulla tutto nel mixer. Faccia di nuovo. Versa la marmellata nei vasetti di vetro ben sterilizzati, chiudi con un coperchio e mettili sotto sopra finché la marmellata non sarà fredda. Faccia di nuovo. Faccia di nuovo. Faccia di nuovo. Faccia di nuovo. Grazie a tutti. E sempre, se ti va, lascia un like e iscriviti al nostro canale.